Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Un caloroso buongiorno a tutti i radioascoltatori Partiamo con i titoli dei quotidiani in edicola La Nazione, Pioli rischia tutto La Gazzetta dello Sport, Chiesa Simeone Doppio Rebus Viola, Il Corriere Fiorentino Pioli con l'incognita Chiesa Tutto Sport, Chiesa, La Fiorentina in Ansia Oltre alla crisi anche assenze importanti Contro il sassuolo Vito Rugo è squalificato Al suo posto dovrebbe subentrare Milenkovic Con Laurini terzino Ieri mattina è stato inserito sottile in posizione centrale Per cambiare qualcosa Anche se il posto dovrebbe essere di piazza Intanto Pioli pensa a Vlaovic Che finora ha collezionato solo 13 minuti di presenza Simeone è in crisi E può essere che il serbo gli rubi il posto Per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola A cura di Fiorentina1.com